Wauwai ragazzi e bentornati nel rapporto di stato-casa base del 5 agosto 2020. Un fatto degno di nota di questa patch è il fatto che è possibile ricercare le armi Art Deco, ovviamente al costo di 1500 design armi e 100 flussi leggendari, direttamente da registro raccolta. Dal team di Fortnite, comandanti, ci auguriamo che vi stiate divertendo con ventura ed esolazione devastata. Scalate le classifiche con gli altri comandanti per sbloccare i materiali di supercarica. Ricordatevi di condividere i vostri set equipaggiamento con gli amici? Credo che le migliorie che ho sviluppato vi piaceranno. Siete inondati dai lama? Approfittate della nuova apertura in blocco. Con questa opzione potrete aprire fino a 10 lama contemporaneamente e senza animazioni per arricchire la vostra collezione con la massima efficienza. E già questo secondo me è un cambiamento degno di nota. Ok, non possiamo aprirli tutti in una botta, ma già aprire i mini lama a botta di 10 diciamo che è molto meno stressante. Nota, quando acquistate lama dalla scheda bottino, l'opzione di apertura multipla si trova nella schermata dettagli. La potete aprire usando l'icona della lente sotto al lama. E ora avrete anche un indicatore con il numero di copie di quel progetto o eroe che possedete già. Lo stesso indicatore apparirà anche quando aprite pacchetti di scelta, selezionate oggetti da riciclare e altro. Avete un nuovo eroe o progetto che deve salire di livello? Nessun problema comandanti, potete far salire eroi e progetti fino a 10 livelli per volta. Efficienza massima. Infine, casa base ci ha posto alcune domande riguardo ai livelli dell'avventura. Perciò abbiamo preparato una lista degli sblocchi principali. I livelli compresi fra quelli elencati che vedete forniranno invece oro, materiali per evoluzione e stravantaggi. Assicuratevi di completare la serie di incarichi impostore per ottenere supercaricatori extra. In bocca al lupo nella desolazione comandanti, direttore Riggs. E adesso torniamo al nostro abituale rapporto di stato casa base. E attenzione che anche qui le novità sono parecchie. Dennis Junior, che abbiamo già visto recentemente. Le eliminazioni con l'Ascia danno 11% e 37% di possibilità di ottenere riff roccheggiante. Ma attenzione che con Dennis Junior sbloccherete anche il vantaggio squadra di Totalmente Rock. Ed è l'unica maniera per ottenere Totalmente Rock. Quindi dovrete per forza avere Dennis Junior. Sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dall'8 agosto alle 2, ora italiana, fino a 4 settembre. Poi passiamo oltre lo schianto surround. Fatti sentire forte è chiaro che lo schianto surround colpisce il terreno e crea una serie di impulsi sonori che danneggiano e respingono i nemici. Lo schianto surround invece sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dall'8 agosto alle 2 fino a 4 settembre. Quindi venerdì notte. Crackshot si mette in marcia per la parte 2. L'8 agosto alle 2, ora italiana, Crackshot torna alla stazione radio per trasmettere la parte 2 della sua canzone dell'estate. Carica il furgone e raduna il gruppo. È ora di mettersi in marcia con un secondo modificatore per sbloccare il deciblaster. Quindi anche il deciblaster ottenibile tramite incarico mettiti in marcia, il deciblaster spara una raffica sonora che perfora i nemici e rimbalza fino a 5 volte, infliggendo danni ad aria ad ogni rimbalzo. Come abbiamo appena già detto, il deciblaster sarà disponibile per la mettita in marcia dall'8 agosto alle 2, sempre fino al 4 settembre. Fate attenzione ragazzi. Teni gli occhi aperti per questi eroi la prossima settimana. Penny si mette in marcia per la parte 2 il 15 agosto alle 2, ora italiana. Penny torna sulla stazione radio per trasmettere la parte 2 della sua canzone dell'estate. Carica il furgone e raduna il gruppo. È ora di mettersi in marcia con un secondo modificatore per sbloccare Jess Parasauro. Jess Parasauro è un eroe totalmente nuovo, il suo vantaggio standard, le abilità curano il 7,2% della salute massima quando usate. Mentre come vantaggio comandante, udite udite, le abilità curano il 21,5% della salute massima quando usate. Jess Parasauro sarà disponibile nella missione metti in marcia dal 14 agosto alle 2, quindi da ferragosto fino al 4 settembre. Infine ritornerà anche Ramirez linea rossa, che aumenta il danno dei fucili di precisione del 17% e come comandante in più anche la cadenza di tiro del 45%. E anche essa sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 14 agosto alle 2 fino al 4 settembre. Ci vediamo ad esolazione devastata comandanti. Le patch notes ufficiali terminano qui ragazzi, ma ancora qualche piccolo particolare sono riuscito a notarlo nel gioco. Prima comunque di rivelarvi anche due leaks che sono riuscito a trovare, ci tengo comunque a farvi un discorso riguardo le aventure e ciò che è successo questa settimana. Come voi tutti avrete ben notato, ci sono state delle persone in grado di duplicare appunto i supercaricatori. Cosa è successo? Molte persone si sono potenziate armi oltre il livello massimo consentito. Molti altri invece si sono potenziati il livello, arrivando a una potenza di 138. Altri invece hanno potenziato eroi. Comunque, la Epic si è fatta sentire con un post su Reddit. In questo post avevano comunque detto che avrebbero fatto un'ondata di ban non permanenti, quindi non un ban permanente, un ban temporaneo per chi avesse sfruttato questo glitch. Ecco perché ci tengo sempre comunque a ribadirvi di non sfruttare queste cose che vanno comunque a alterare la natura del gioco. Perché ragazzi un conto è fare il glitch che ci busta un po' i danni, il glitch della duplicazione, il glitch così diciamo che essenzialmente non fanno danni al gioco stesso se non andiamo a vendere cose su mercatini e roba varia. Nel momento in cui magari scorri la lista amici e vedi un tuo amico in casa base a rango 138, beh ti accorgi di magari quanto non sia giusto glitchare, di quanto tutti abbiamo gli stessi diritti su questo gioco, chiaramente. Quindi fortunatamente mi viene da dire comunque la Epic si è fatta sentire e appunto ha rimosso tutti questi particolari con questa patch. Chiunque avesse sfruttato questi glitch diciamo che si è visto tutte le cose glitchate e rimosse. Persino armi e trappole già craftate sono state rimosse, ogni cosa che cedeva il livello massimo consentito fino a questo stagione diciamo che è stato rimosso. Adesso non so dirvi se questo abbia funzionato bene o male, questo lo scopriremo ovviamente solo col tempo, però è da notare il fatto che comunque la Epic non ci ha abbandonati. E' da notare il fatto che comunque hanno subito parlato su questo glitch e hanno messo subito le carte in tavola e sono contento non tanto per il fatto che abbiano sistemato il glitch ma tanto per il fatto che abbiano veramente parlato con la community. Era da tempo che magari su fatti così importanti la Epic non si faceva mai sentire, non parlava, tutto taceva, tutto scorreva come doveva scorrere. E in questo caso ci sono comunque rimasto bene per vedere la posizione che ha preso la Epic per un po' difendere tutta la community diciamo no? Per preservare ancora quell'integrità che c'è nel gioco. E' un aspetto molto positivo ragazzi, magari a molti di voi è passato inosservato ma è una cosa molto molto positiva ai miei occhi. Comunque passando ai leaks non è molta roba ragazzi, è ciò che ovviamente sono riusciti a trovare i vari leaker. Una è un'arma da mischia come potete vedere e un altro è un eroe chiamati starter pack ragazzi. Eh sì, non so bene cosa vogliono intendere con starter pack ma gli starter pack sono quelli che prendiamo all'inizio della nostra carriera quando scegliamo il nostro pack. Potrebbe essere un pack base dato a tutti quelli che comprano salva al mondo ora? Non lo so ragazzi, lo vedremo con le prossime patch. Per ora essendo solamente dei leaks non ci resta che trarre certe conclusioni e cercare di azzeccarci no? Però ha poca importanza, vedremo i dettagli quando uscirà. E che dire ragazzi, queste erano tutte le novità di oggi. Beh ovviamente magari c'è ancora qualcosa che è cambiato nel gioco. Sono riuscito a notare per esempio che magari loottando cose in giro non fa più l'animazione del looting. Questo secondo me è un piccolo bug temporaneo, niente di che. Però sicuramente è per farvi capire che ci sono delle piccole cose che magari cambiano e che non ci scrivono più nelle patch notes. Quindi prestate sempre un occhio. Se notate qualcosa di nuovo scrivetemelo qua sotto nei commenti. Io per oggi vi ringrazio di essere arrivati fino a qui e guardare il video. Vi ricordo che se volete supportare la crescita di questo canale vi basta inserire il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. E per oggi è tutto ragazzi, noi ci vediamo comunque con il prossimo episodio. Bella bella!